Bologna l'iter per il nuovo dall'Ara si complica? Come anticipato da www.repubblica.it Le recentissime modifiche alla legge sugli stadi, entrate in vigore lo scorso 24 giugno, richiederanno un supplemento di studio per rendere compatibile alle novità il progetto che il Bologna Calcio sta realizzando insieme al costruttore Maccaferri. L'obiettivo è sempre creare un polo della moda ai prati di Caprara, una delle famose aree compensative, come quelle meno decisive di Antistadio e Cerebri, dove realizzare busines, che consentano a Joe e il saputo di sostenere la spesa della ristrutturazione dello stadio, circa 70-80 milioni totale.La questione è piuttosto complessa per i non adepti, ma la sostanza è. Il nuovo dall'Ara si può ancora fare, il progetto non salta ma i tempi della presentazione del progetto si allungano. Questo perché le nuove norme, se per alcuni aspetti hanno semplificato alcuni passaggi burocratici, favorevolmente al piano rosso-blu, hanno introdotto il criterio della contiguità all'impianto delle aree di sfruttamento commerciale. E i prati di Caprara, sono un po' troppo distanti dal dall'Ara per essere considerati al servizio dello stesso. Quindi il Bologna sta ora studiando un nuovo percorso amministrativo, dice l'ad Claudio Fenucci, che è piuttosto complicato, ma non impossibile. Il BFC ha chiesto ufficialmente un chiarimento sulla legge, al ministro dello sport Luca Lotti.